Il Master di secondo livello in Governance delle istituzioni scolastiche, alla sua seconda edizione, si presenta come percorso finalizzato alla formazione del manager e del dirigente della Scuola dell'Autonomia e dell'Inclusione. È un Master che presenta una didattica integralmente digitale con lezioni sincrone ma registrate e fruibili in qualsiasi momento. Nel bando sono previste agevolazioni economiche speciali per particolari categorie di lavoratori come docenti delle scuole di ogni ordine e grado e particolari categorie di laureati.